Si terrà il prossimo 9 dicembre la prima udienza del processo per la morte alle cascine di Firenze della zia e della nipotina di due anni, travolte da un tronco staccatosi da un albero, a processo i tre addetti del consorzio. Era il 27 giugno del 2014, Donatella Mugnaini di 57 anni e la nipotina Alice Mugnaini di due anni si trovavano nel viale del Galoppo, un vialetto pedonale, quando all'improvviso un grosso ramo cadde dall'altezza di 8 metri. La donna era a piedi e mentre la bambina sedeva nel passeggino andavano a seguire una manifestazione sportiva. I tre imputati sono addetti del consorzio incaricato dal comune di Firenze di controllare e censire gli alberi delle cascine dopo un fortunale del 2010 che causò notevoli danni al parco e determinò la necessità di abbattere circa 200 esemplari. L'albero era un bagolaro, un esemplare di 80 anni, che rimase gravemente lesionato proprio dopo il temporale di diverso tempo prima.